Ciao, ci riprendiamo vicenda? Senti, ma le fadde lo porti dentro anche. No, lo porto nel bagno e lo lascio lì. Che interesse ha? Leggiamo questo, ma le televisioni. Interesse storie. Ed abbiano carattere di preminante interesse. Cosa ci stai leggendo? Secondo te? Mi fai vedere? Che cosa dice questo qui? Dice ad esempio che delle cose che sono dei beni comuni devono rimanere beni comuni. Ma lei è un parlamentare? Ma ad esempio l'acqua. Ma che c'è il nome della trasparenza? Io che ho parlato. Scusi, mi spiega una cosa? Vorrei sapere con chi ho parlato. Io mi chiamo Cristina Kaplin e sono giornalista svedese. Ciao, Sestere. E tu? Massimo Emiliano, ciao. Ma lei non è un parlamentare per oggi? No, sono un cittadino, sono un architetto. È un militante del Movimento 5 Stelle. Questo dovrebbe anche in qualche modo uscire fuori dagli emisferi, dalle teste di molte persone che lavorano. Però purtroppo la maggior parte di voi lavora in un sistema che ha un monopolio pubblicitario. E questo monopolio pubblicitario, come ad esempio quello dell'acqua in bottiglia, vincola queste cose.